Un avvenimento che ha sconvolto la Francia ma che ha sconvolto il mondo intero. Qual è lo stato d'animo? Cosa provano le persone ad aver visto quanto è successo in Francia? E soprattutto l'Italia è un paese a rischio? E' molta tristezza. Ma paura, incapacità nell'agire, questo è quello che io sto provando in questo momento. Penso che questa situazione non si risolvi molto facilmente. L'Italia è un paese a rischio? Penso di sì e siamo incapaci a reagire in nome credo. Stiamo vivendo questi momenti veramente intensamente. Io stamattina ho ricevuto anche su WhatsApp un messaggio dove mi chiedeva di divulgarlo per la pace del mondo. E' una matita. Sono momenti che viviamo tristemente perché la democrazia è la cosa più bella che ci può essere. Sicuramente si pensa anche il fatto che si può scherzare con determinate cose. Ancora forse in questi paesi dobbiamo evitare di scherzare. L'Italia è un paese non a rischio. Non a rischio perché io reputo che gli italiani a livello di controlli sono abbastanza preparati. Non che in Francia non siano molto preparati. Che cosa si prova, padre, ad ascoltare queste notizie? Come ha detto l'amico, una sensazione di sfiducia, di smarrimento. Però poi vanno analizzate le cause, vengono da lontano le cause. Quando l'uomo reagisce così, perché è stato punzecchiato, è stato mortificato in qualcosa? Ascoltavo oggi la radio e diceva che queste reazioni sono l'apice di un cammino che dovrà esaurirsi. Perché si vengono accecchiati da proposte democratiche, da proposte di coinvolgimento delle forze e quindi tendono a difendersi. Quindi è un fenomeno che va verso la fine e non è che all'inizio sia un fenomeno che man mano che va avanti si ingegnerà. È grande tristezza perché le religioni non dovrebbero scatenare l'estremismo. Quindi non si tratta neanche di un discorso di religione, è un discorso improprio. Quindi dare maggiore dignità anche al lavoro dei giornalisti, perché la Satira riesce a colpire anche le persone più distratte tramite le vignette, una rappresentazione figurativa anche molto importante. Quindi ridare maggiore dignità al lavoro dei giornalisti perché molti non lo considerano un lavoro. Grazie.